L'ordine professionale degli infermieri rappresentato dalla Presidente Laura Biagiotti in questo importante appuntamento la giornata mondiale degli infermieri. È una data importante, è una data significativa perché rimarca ancora una volta di più l'importanza del ruolo di questa figura sanitaria. Sì, è vero. Oggi finalmente si può riparlare in modo ufficiale dell'infermiere. Ricorre ogni anno la data del 12 maggio perché ricordiamo la nostra fondatrice della nostra professione che è Florence Nightingale che fondò appunto la scienza infermieristica. Diciamo che grazie a questa giornata ricordiamo il ruolo dell'infermiere. L'infermiere che purtroppo oggi forse viene un po' a svanire. È una persona, è una personalità che passa in secondo piano. Non ha quel valore aggiunto che dovrebbe avere. La pandemia è costata cara anche a tanti infermieri. Più di 80 infermieri sono deceduti durante questi anni di pandemia. Ha testimonianza quindi di come veramente si tratti della vita messa in gioco? La pandemia ha segnato tutti, ha segnato anche l'infermiere. L'infermiere lo fa di professione e quindi di conseguenza noi non ci sentiamo eroi come hanno spesso detto. Però la pandemia deve far comprendere alla nostra amministrazione regionale, al nostro governo che è importante riconoscere quel valore aggiunto a questa professione perché se venisse veramente a mancare sarebbero problemi seri e quindi va dato loro un riconoscimento economico adeguato che ormai ribadiamo apertamente e il riconoscimento e il ruolo negli ambiti sanitari. Di riconoscimenti ne date voi oggi uno importante perché c'è una premiazione per una tesi di laurea a dimostrazione anche della futuribilità di questa professione. Oggi viene premata una tesi di laurea specifica con questo concorso. Come tutti gli anni noi facciamo questa premiazione alla miglior tesi per riconoscimento a una nostra collega infermiera che è morta, si chiama Monica Crinelli e abbiamo dedicato a lei questo riconoscimento. Diamo l'opportunità a tutti gli infermieri che si laureano e che si iscrivano all'ordine professionale di Pesaro di poter partecipare a questo concorso. Laura, sei un'infermiera, sei una giovane infermiera, sei una giovane infermiera vincente perché hai colto al volo l'opportunità che dava l'ordine professionale di Pesaro di questo concorso e l'hai vinto. L'hai vinto con una tesi di laurea molto interessante. Si chiama il disturbo depressivo maggiore, interventi infermieristici per la prevenzione e promozione alla salute mentale. È una tesi che si concentra essenzialmente sul ruolo dell'infermiere scolastico, quindi portare la salute mentale e non solo, una cosa che si potrebbe anche estendere agli altri ambiti della salute. È di fare promozione all'interno di una scuola, quindi abbiamo fatto uno studio sperimentale portando appunto una prevenzione primaria in ambito di salute mentale al liceo classico Giulio Perticare di Senigallia.